C'è stato fornito un nuovo strategia. Unità, subito danni. Poco serrato sull'unità. L'attività di propaganda del nemico è cessata. Rapporto, le nostre unità sono sotto attacco. Signore, abbiamo subito perditi. Rapporto, le nostre unità sono sotto attacco. L'unità si prepara a ingaggiare il nemico. Unità sotto attacco. L'intelligenza ha individuato la nuova base in ingra. Metzanne il cuore passe a. Rapporto, le nostre unità sono sotto attacco. Rapporto, le nostre unità sono sotto attacco. Rapporto, le nostre unità sono sotto attacco. Signore, abbiamo subito perdite. Feuer, reinstellen. Sie haben erst mal genug. dei suoi unità sono sotto attacco. D'accessitli, a l'interno del guru è più a dare fin. L'att Ahmadina. Un'antimità. Queunezza si fa perché non è più pulpa. Finare c'è più rischio. Un'attimità.